buonasera allora sono tornati sono tornati l'avrete visto anche dal video postato dal profilo instagram della juventus e dal video postato al profilo indaga instagram di leandro paredes siamo arrivati eccoci qua eccetera anche di maria con suo vamos eccetera eccetera perché si sono sentiti in dovere di fare questo video perché evidentemente all'orecchio gli è giunta un certo malcontento dei tifosi gli è arrivato questo malcontento di molti tifosi sul fatto che loro si siano effettivamente presentati il 2 di gennaio e quindi si sono sentiti in dovere di rimarcare il fatto che sono tornati gli altri non lo hanno fatto nessuno lo ha fatto ecco quindi il comportamento di paredes e di maria era evidentemente volto a cercare un attimo di stemperare gli animi anche perché comunque al di là dei soliti commenti di tifosi dell'argentina che ci stanno assolutamente che ringraziano ancora per il mondiale appena vinto i commenti italiani diciamo così o juventino ne erano sicuramente molto belli da da leggere e da ricordare ma il punto ragazzi non è allora mi si fa notare giustamente ma se sono tornati i due perché la società glielo ha permesso ovvio che la società glielo ha permesso ovvio che questa data è stata evidentemente concordata dopo la vittoria del mondiale ovvio che si è cercato di fare in modo che passassero giorni affinché si smaltisse non solo la spornia vera e propria o quella derivante da più feste alle quali ho partecipato ma anche proprio l'euforia mentale che sicuramente accompagna chi realizza il sogno più grande che può realizzare chi gioca al calcio no su questo sicuramente non ci piove siamo tutti d'accordo però nel momento in cui non voglio parlare per carità è di salta fossi o di tranelli no 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 non è questo ma nel momento in cui una società ma succede anche nella vita normale dai si mettono delle regole però se queste regole se a queste regole si contravviene in senso positivo no si è sicuramente molto più apprezzati no cioè io non ti dico niente tu io ti ho detto che puoi tranquillamente rientrare il 2 e non ho niente da dirti sia chiaro no perché non hai trasgredito non intorno il 3 o il 4 magari perché l'aereo è partito in ritardo perché hanno cancellato un volo perché tra l'altro può succedere quante volte sono successe situazioni di questo genere di giocatori d'oltreoceano che rientrano in ritardo da un impegno con la nazionale ma perché ci sono difficoltà per i voli questo può accadere però è chiaro che ti fa stizzire sicuramente quindi io non ti dico niente perché tu sei arrivato regolarmente nel giorno stabilito ma t'avrei detto qualcosa sicuramente di positivo se tu ti fossi presentato prima è questo il concetto è questa la differenza tu non hai trasgredito nessuna regola ma se tu l'avessi trasgredito in senso positivo io sarei stato decisamente più contento tutto qua tutto qua poi adesso loro sanno perfettamente che proprio perché sono campioni del mondo proprio perché sono campioni del mondo dopo l'euforia e dopo il festeggiamento e oltre all'orgoglio di aver raggiunto questo traguardo fantastico è come se tu salissi di un gradino di responsabilità cioè io ho raggiunto questo titolo però adesso parto da campione del mondo e quindi ho tra me e me questo dovere morale di far capire agli altri che io sono un campione del mondo e che non sto più festeggiando da campione del mondo ma gioco da campione del mondo gioco mi applico faccio da guida agli altri da campione del mondo cioè tu hai fatto uno scatto è come se come gli scatti nel mondo del lavoro tu hai fatto uno scatto in avanti dal quale non puoi nessuno ti potrà portare indietro assolutamente che sei campione del mondo è scritto nella storia però questo automaticamente dal punto di vista morale per come la vedo io comporta che tu ti comporti da campione del mondo fino a quando ovviamente giocherai fino a quando sarai un calciatore a tutti gli effetti quindi è legito aspettarsi da Di Maria che faccia delle partite più o meno sulla falsariga della finale che ha disputato lo dico ancora anche solo per un'ora a partita basterebbe un'ora di quel di Maria lì a partita o all'inizio o la prima ora o l'ultima ora basterebbe un'ora e Paredes deve non solo dimostrare questo ma anche provare se proprio ci tiene se ci tiene a farsi riscattare a fin l'anno perché il riscatto non è più obbligatorio come vi ho già detto è caduta la clausola purtroppo diciamocelo pure per la Juve legata alla qualificazione agli ottavi dicembre quindi non c'è più nessun obbligo di riscatto però questo non significa che la Juve possa decidere per giugno di riscattare il calciatore che in questo momento a mio modestissimo parere se se la giocasse con fagioli perderebbe in questo momento se se la giocasse con fagioli perderebbe io vedo la Juve con fagioli stabilmente lì fagioli stabilmente lì eppure con Locatelli in qualità di regista se la perderebbe in questo momento se dovesse giocarsela quindi ha il dovere stimolo di rimontare questo tipo di posizioni e far vedere che è un giocatore che può tranquillamente stare o tornare nella serie A di alto livello perché lui in questa serie A non ha mai giocato ad alto livello ha giocato nell'Empoli ha sicuramente fatto uno step in avanti giocando nella Roma ma non ha mai giocato in una squadra di livello della Juve e quindi devi saper dimostrarvi anche questo tutto qua io vedo due giocatori potenzialmente carichissimi di stimoli carichissimi di stimoli per tutta questa serie di ragioni che ho elencato e mi aspetto da loro tanto non mi aspetto che siano in panchina già dopodomani faccio fatica ad immaginare che già dopodomani possano essere in panchina poi hanno giocato il mondiale fino all'ultima partita non si sono allenati per tanto perché se facciamo due conti la finale della giocata al 18 28 sono 10 giorni più 13 andiamo al 31 sono 15 giorni erano 15 giorni praticamente che non correvano dietro un pallone quindi la vedo molto difficile che possa andare in panchina però tutto può accadere per carità visto che la Juve non ha completamente la rosa a disposizione e questa purtroppo è una realtà che si segue praticamente dalla prima giornata anzi dal precampionato può anche essere che magari vengano convocati ma faccio fatica a pensare provo a immaginarli disponibili da Juve Udinese in avanti quindi poi ci sarà Napoli Juve eccetera 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 ho dedicato l'ultimo video interamente a questi due giocatori magari ne parliamo ancora in avvicinamento ai Udinese quando spero penso che siano disponibili dopodiché entreranno come tutti gli altri giocatori nel lotto di coloro che verranno giudicati una brutta parola dei quali si parlerà dopo le partite per come hanno reso sul campo perché adesso noi ci occupiamo di campo poi il 20 vediamo se è il caso di occuparci di qualcos'altro ma fino ad allora ci occupiamo essenzialmente di campo a meno che qualcuno si avete citato qualcuno dei riciclatori ma manco perdo tempo manco perdo tempo iscrivetevi al canale e ci vediamo domani dopo la conferenza stampa di max allegri e presumibilmente anche di albini credo che parlino più o meno alla stessa ora ciao ragazzi iscrivetevi al canale